Un saluto a tutti i miei sportivi di Sportback, Chilombo di Zero Basket e Bull Basket, a tutti siamo a Verona in attesa del match con il del girone rosso di A2 maschile tra Humana, San Giobbe, Chiusi e Tenziani Sverosa ma non facciamo a meno di mandare un commento ai nostri sportivi toscani della bellissima partita che ieri Arezzo si è tenuta tra Amens con la basket Arezzo e Giroz di Coccio Barsotti, insomma 86 a 69 ma quanto a Arezzo nella prima parte con sicuramente in spolvero Cucchini e Rossi era un'intensità difensiva veramente importante. Giroz sicuramente hanno reagito come sul loro solito nella seconda parte della partita, sono 38, ero rimbalzi contro 22, i rimbalzi della squadra di Coccio Evangelisti tira col 57% dal campo Montecatini, Giroz contro 46 a Arezzo e sicuramente la differenza l'ha fatta i tiri da 3, 33% per Giroz e 25 per Arezzo. Cosa dire, per Arezzo sicuramente un'ulteriore bella partita sulla strada di un mazzo che sarà importante per intensità e soprattutto per concentrazione dovrà dimostrare questa continuità di approccio alla partita per Giroz una partita che conferma la loro forza e la loro capacità di uscire alla distanza e allora il mattese del prossimo turno auguriamo buon basket a tutti!